Benvenuti a questa nuova video-lezione in cui parleremo del quarto stato, che cos'è e come nasce. Partiamo dal dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, dal titolo Il quarto stato, realizzato tra il 1895 e il 1901 e attualmente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Come vedete il quadro rappresenta un gruppo di lavoratori in marcia, e che siano lavoratori lo comprendiamo dal modo in cui sono vestiti. Notiamo in primo piano, al centro e sulla sinistra, due uomini, mentre a destra una donna con i piedi nudi che tiene in braccio un bambino. Perché quarto stato? Come abbiamo già visto nella Francia pre-rivoluzionaria, quindi prima della rivoluzione francese, la società era divisa in tre ordini o stati. Avevamo la nobiltà, il clero e il terzo stato. Il terzo stato comprendeva l'alta e media borghesia, ma anche operai e contadini. Nell'Ottocento abbiamo un'ulteriore divisione del terzo stato tra la borghesia e il proletariato, ovvero operai e contadini. Quindi questi ultimi vengono definiti quarto stato. Nasce pertanto un nuovo tipo di conflitto sociale, quello tra la borghesia, ovvero il terzo stato, e il proletariato, definito quarto stato. Il proletariato è rappresentato dalla massa delle classi con redditi bassi o minimi. In questa immagine vediamo una famiglia proletaria rappresentata, quindi miseria e condizioni economiche e di vita misere. Dall'altra vediamo invece l'immagine di un borghese. Sono borghesi i proprietari dei terreni, i proprietari delle fabbriche, sono proletari e i braccianti o gli operai che lavorano in quelle fabbriche e in quei terreni. Il termine proletario, infatti, risale all'epoca romana e significava colui che possiede solo la prole, ovvero solo i figli, e cioè non ha nulla di materiale come proprietà. Le pessime condizioni di vita degli operai, delle fabbriche, e il fatto che essi inizino a prendere coscienza del fatto che unendosi possono cercare di cambiare questa situazione o quantomeno provarci, determina la nascita del movimento operaio, ovvero la nascita di associazioni che chiedono, che rivendicano migliori condizioni di lavoro, per gli operai, in particolare per donne e bambini, le condizioni di lavoro all'epoca erano quasi disumane e i bambini e le donne erano più sfruttati e sottopagati. Il movimento operaio lotta anche per la riduzione dell'orario di lavoro, che ricordiamolo era intorno alle 12-14 ore al giorno, a volte addirittura 16 ore al giorno, e per un aumento salariale, aumento dello stipendio. Il movimento operaio trova le sue basi teoriche nelle opere di alcuni filosofi ed economisti dell'epoca, come i tedeschi Karl Marx e Friedrich Engels, autori di un'importante opera, Il Manifesto del Partito Comunista, pubblicato nel 1848. Di Karl Marx citiamo anche la monumentale opera Il Capitale, pubblicato per la prima volta nel 1867. Marx è considerato il padre del comunismo. Il comunismo è una dottrina politica che prevede l'abolizione della proprietà privata, la dittatura del proletariato, questo significa il potere in mano ai lavoratori, quindi il controllo dei beni e dei mezzi di produzione, primi fra tutti le fabbriche, nelle mani appunto dei lavoratori. Nel disegno di Marx, inoltre, la società deve essere senza classi, perché alla base delle ingiustizie ci sono proprio le classi sociali, la divisione della società in classi causa ingiustizie. Tutto ciò può essere perseguibile attraverso una rivoluzione. Il Manifesto del Partito Comunista si conclude con queste parole proletari di tutto il mondo, unitevi. Infatti il comunismo ha un carattere internazionalista, cioè tutti i lavoratori del mondo devono sentirsi fratelli e battersi per i medesimi diritti e per i medesimi obiettivi. Nel 1864 Marx contribuisce a fondare la Prima Internazionale, che è un'organizzazione con lo scopo di coordinare i vari gruppi operai dei vari stati. Nel 1875 nascerà poi il primo partito marxista operaio, ovvero il Partito Socialdemocratico tedesco. In Italia, invece, abbiamo la nascita nel 1892 del Partito Socialista Italiano, fondato da Filippo Turati. definita andare iniziando. In Italia, invece, anche allora vediato qui iniziando una peredra. In Italia, invece, c'è la ultima di paese. Nel 18 quizz arriba inücklich, in fuori all'un giro iniziare il statsi dell'ombre di historica di Stagge. In Italia, invece, crediamo a di vento da fisi